La straordinaria storia del cane Rylan ebbe inizio una decade fa, quando una gentile donna lo salvò appena due giorni prima che dovesse essere soppresso. Questo affascinante racconto è emerso sui social solo di recente e commuovendo migliaia di utenti in pochi minuti. Oggi Rylan ha un compito significativo da svolgere, prendersi cura dei gattini della sua devota madre adottiva Laura. La storia di Rylan è un inno all'amore e alla resilienza. Dopo essere stato estratto da un rifugio salvato dall'eutanasia, dalla donna che gli ha dato una nuova vita, Rylan ha voluto esprimere la sua gratitudine in un modo straordinario. Senza alcun addestramento formale, ha iniziato a prendersi cura affettuosamente delle cucciolate di gattini, dimostrando il suo amore per la sua padrona.